l'argomento che facciamo adesso sono le disequazioni lineari allora per darvi un'idea di quella che è l'utilità delle disequazioni lineari dove è Dropbox vi faccio vedere giusto perché abbiate un'idea così capite che non racconto stupidate vi faccio vedere che cosa stavo facendo in terza A allora questa è una disequazione questa è una disequazione disequazioni anche queste disequazioni anche qua fratte e con sistemi di disequazione perché saranno quello che sostanzialmente faremo vedete che la lezione di oggi ha avuto una buona parte di disequazioni quindi questo per farvi capire che le disequazioni sono cose che non servono tanto ad andare avanti servono tantissimo se non di più quindi non possiamo permetterci di lasciarceli alle spalle sono ancora più importanti delle equazioni forse perché le equazioni alla fine fine in qualche modo riusciamo sempre a cavarcela e poi con le equazioni abbiamo una scappatoia cioè la possibilità di verificare che la soluzione che abbiamo trovato vada bene nelle disequazioni le cose funzionano in modo un po' diverso perché le soluzioni che troviamo sono quasi sempre infinite e allora non possiamo permetterci di verificare se le cose vanno bene disequazioni perché al posto del segno di uguale hanno il segno minore, maggiore, minore uguale, maggiore uguale ok? allora per prima cosa partiamo dalle proprietà delle disuguaglianze cioè quando non c'è di mezzo la x come in questo caso noi parliamo di disuguaglianze e quindi possiamo dire che meno 2 è minore di 3 che è vero che un mezzo è maggiore di meno 4 ed è vero 3 è minore di 12 7 è maggiore di 0 radice di 2 è maggiore di 1 sono tutte disuguaglianze vere quelle che hanno scritto qua questi simboli indicano il verso della disuguaglianza e poi abbiamo sempre primo membro, quello a sinistra secondo membro, quello a destra queste disuguaglianze in cui compare lo stesso simbolo hanno lo stesso verso o lo stesso senso ecco qua è interessante vedere che ritornano alcuni termini della fisica verso in questo caso potrebbe essere effettivamente simile a quello che abbiamo visto in fisica e questo maggiore o minore potremmo vederli come la punta della freccia le proprietà che vengono aggiunte qua sono praticamente le stesse che abbiamo visto per le equazioni ci saranno solo alcuni cambiamenti che vi sottolineerò quindi in questo caso io posso sommare o sottrarre uno stesso numero a entrambi i membri di una disuguaglianza e ottengo una disuguaglianza dello stesso verso va bene moltiplico o divido ecco qua la specificazione per uno stesso numero positivo vedete che allora questa qua che diventa che si distingue nella proprietà con l'azzurro e quella con il rosso equivale a l'unica proprietà che avevamo detto per le uguaglianze cioè per le uguaglianze avevamo detto moltiplicando o dividendo per uno stesso numero senza specificare se positivo o negativo entrambi i membri di un'uguaglianza ottenevamo un'uguaglianza praticamente equivalente a quella data qua invece dice che sarà poi la premessa per arrivare al secondo principio di equivalenza che se il numero è positivo la disuguaglianza mantiene il verso se il numero è negativo la disuguaglianza cambia verso dopodiché ci dice ecco la disuguaglianza fra due numeri concordi è diverso opposto a quello della disuguaglianza fra i loro reciproci ok? 2 minore di 10 diventa un mezzo maggiore di un decimo meno 4 maggiore di meno 5 diventa meno un quarto minore di meno un quinto questa proprietà non vale per i numeri discordi cioè se meno 4 è minore di 3 anche se io passo ai reciproci non cambia assolutamente nulla eccole qua le nostre disequazioni oh che bello sono disuguaglianze che contengono una o più lettere e le incognite sono le lettere il cui valore numerico non è noto in questo capitolo ci occuperemo due ore in avanti solo di disequazioni in una incognita le disequazioni in due incognite per poterle fare abbiamo bisogno della geometria analitica quindi ci vorrà un po' di tempo anche per le disequazioni vale quello che abbiamo detto per le nostre equazioni e cioè che abbiamo disequazioni intere, frazionarie, numeriche e letterali allora, quelle intere saranno abbastanza semplici e basterà un po' di esercizio per capire come funziona praticamente non cambia quasi nulla rispetto alle equazioni le frazionarie invece introducono un elemento in più le numeriche anche queste non hanno sorprese le letterali dovremo andare a fare la discussione le cose si faranno un po' più lunghe dominio di una disequazione è lo stesso che abbiamo detto per la nostra equazione quindi dobbiamo vedere che il nostro denominatore sia diverso da zero quindi x diverso da 2 qua invece x diverso da meno 5 mezzi e qua sappiamo che è somma di quadrati quindi è sempre diverso da zero tutto quello quindi fino ad ora tutto quello che abbiamo detto delle equazioni lo stiamo riproponendo uguale un numero è soluzione di una data di disequazione se sostituito all'incognita trasforma la disequazione in una disuguaglianza vera il problema è che davvero non le possiamo sostituire tutte ok? quindi fino ad ora nulla di nuovo ecco qua adesso abbiamo l'insieme delle soluzioni che sarà in realtà un insieme infinito vedete contrariamente a quanto avviene per le equazioni l'insieme delle soluzioni di una disequazione può essere costituito da infiniti numeri poi dice va bene che risolvere una disequazione significa trovare questi numeri e poi sappiamo che una disequazione è impossibile esattamente come nel caso dell'equazione se il suo insieme delle soluzioni è vuoto abbiamo situazioni diverse cioè guardateli prima sui nostri segmenti qua sto prendendo il segmento e poi faccio un bel pallino vuoto di qua e un pallino vuoto di qua cosa mi dicono? che non sto considerando i due estremi poi ho un'altra situazione invece quella in cui prendo un pallino pieno e un pallino pieno cioè sto considerando i due estremi poi posso avere il primo estremo non lo considero il secondo sì e poi al contrario il primo lo considero e il secondo no quindi questi nostri estremi per comodità li chiamiamo semplicemente A e B A e B sono semplicemente dei numeri ok potrebbero essere 5,4 7,2 quello che volete insomma qua non sto considerando gli estremi e allora come lo scriverò? lo scriverò in questo modo parentesi tonda A punto e virgola B chiusa parentesi tonda cosa vuol dire? praticamente io qua sto dicendo la stessa cosa che c'è scritta di qua è solamente un modo molto molto rapido di rappresentarlo e a volte le soluzioni sul vostro libro saranno scritte così se invece i nostri estremi sono dentro al posto della parentesi tonda uso la parentesi quadra cioè la parentesi quadra mi dice può anche essere uguale ai due estremi poi abbiamo questo caso come sarà? chi di voi apre il microfono e mi risponde e mi detta come sarà anche se avete davanti il libro vorrei che provaste a ragionare prima tonda e poi quadra prima tonda e poi quadra grazie Crecchi e l'ultimo caso? prima quadra e poi tonda perfetto prima quadra e poi tonda bene beh l'unico altro modo che in realtà voi tenderete a preferire dimenticando questi due metodi che ho appena proposto sarà questo allora qua dirò che x è compreso fra a e b cioè maggiore di a e minore di b il nostro x si trova da qualche parte su questo segmento l'importante è che non sia uguale né ad a né a b in questo caso invece scriverò che x è ancora compreso fra a e b ma può essere anche uguale ok? perché qua ci sono i pallini pieni e in questo caso diventerà a minore di x minore uguale di b e nell'ultimo a minore uguale di x minore di b qua abbiamo la nostra retta r e sopra ci rappresento un segmento vuoto pieno qua ci metto 3 e qua ci metto 10 ok? cosa scriverò scrivo aperta parentesi tonda 3 si 10 chiusa parentesi quadra perfetto dimmelo anche con la x 3 è minore di x si ed è minore uguale di 10 perfetto ok non è difficile no? non vi sto chiedendo niente di particolarmente terribile allora beh facciamo un altro metodo allora qua ci metto 2 punto e virgola 4 come diventa da questa parte? 2 è minore uguale di x e minore di 4 perfetto poi a questo punto ci rappresentiamo la nostra retta si ci rappresentiamo sopra il segmento per ora non sto guardando le unità di misura eh lo sto facendo un po' a caso allora in corrispondenza del 2 pallino pieno o pallino vuoto? pallino pieno e poi pallino vuoto perfetto 3 minore uguale di x minore uguale di 7 diventa quadra 3 e 7 chiuso quadra perfetto 1 2 pallini entrambi pieni quelli che andiamo a vedere adesso sono gli intervalli illimitati e le cose cambiano un po' qua vi metto x maggiore di a x maggiore uguale di a x minore di a x minore uguale di a sulla retta com'è che rappresenti x maggiore di a qua è maggiore quindi ci metto un pallino vuoto e poi che cosa uso perché prima abbiamo usato i segmenti adesso cos'è che useremo per rappresentarlo la semiretta che ha un'origine e non ha una fine allora vado a destra di a o a sinistra di a a destra vado a destra di a allora e arrivo fino in fondo guardate qua la cosa è semplice perché vedete che in realtà questo maggiore lo posso prendere come una freccia quindi va da questa parte parte da a e poi va verso destra e qua invece e alla terza va indietro va verso sinistra perfetto e poi mettiamo i nostri soliti pallini pieni e pallini vuoti a seconda della situazione come faccio a scriverlo con gli intervalli guardate allora qua avrò a punto virgola qua avrò sempre il mio a ma con la parentesi quadra punto e virgola e qua sarà il contrario a sarà quello di arrivo e quindi funzionerà così il problema è cosa ci mettiamo come estremo niente niente lo lasciano così simbolo dell'infinito è la prima volta che incontriamo il simbolo di infinito magari qualcuno di voi è stato fortunato e l'ha già incontrato prima l'infinito è questo 8 sdraiato la cosa interessante è questa guardate è sempre escluso perché? perché il nostro infinito non è un numero qua invece avremo che parte da meno infinito quindi andrà in questo modo ok? ma gli infiniti sono sempre esclusi e in effetti io qua non li posso rappresentare ho detto che ho dimenticato un ultimo caso ed è il caso che praticamente mi dice guarda che vale sempre cioè abbiamo la nostra retta ma la nostra retta dei reali a questo punto non ne prendiamo solamente un pezzo ma la prendiamo tutta se la prendiamo tutta qua è facile da rappresentare perché va da meno infinito a più infinito e qua in realtà l'abbiamo rappresentata così per ogni x appartenente ad f procedo con come si risolvono queste disequazioni 2x meno 5 maggiore di 3 procedo come nella equazione quindi lascio la x a primo membro e sposto tutto il resto a secondo membro faccio i calcoli questo qua era il primo principio ciò vuol dire che sommo a entrambi i membri una stessa quantità e ottengo una disequazione equivalente a quella data e anche in questo caso come nel caso dell'equazione disequazione equivalente significa che ha la stessa soluzione e poi a questo punto applico il secondo principio di equivalenza cioè divido entrambi i membri per una stessa quantità diversa da 0 e ottengo a questo punto la mia soluzione x maggiore di 4 arrivati qua voi dovete aggiungere gli altri due modi per scrivere la soluzione ho la retta dei reali questo è come dovete farlo sul quaderno rappresento 4 con un pallino vuoto vado a destra o a sinistra vado a destra ok e quindi come diventa 4 più infinito 4 più infinito sto dicendo la x va da 4 più infinito questi tre modi di scrivere la soluzione sono equivalenti vediamone un'altra x maggiore uguale di 1 più 3 x quindi diventa porto la x tutta a primo membro diventa meno 2x maggiore uguale di 1 adesso ci ricordiamo cosa avevamo detto all'inizio cioè guardate quando moltiplico o divido per una quantità negativa cambio il verso questa è una cosa fondamentale io qua sto dividendo per meno 2 ho diviso per una quantità negativa se questo coefficiente della x è negativo sono in questi casi qua cioè non mi basta semplicemente dire x come avrei fatto con un'equazione qua ci sarebbe stato l'uguale non sarebbe cambiato nulla ma qua c'è una disequazione e quindi cosa estremamente importante io cambio il verso se c'è l'uguale lo mantengo ma questo maggiore è diventato minore proprio per questa proprietà delle disuguaglianze che abbiamo detto allora rappresentandolo sull'asse dei reali sull'asse dei reali cosa succede che io mi rappresento il mio meno un mezzo ok pallino pieno visto che c'è l'uguale e una volta che ho fatto il pallino pieno vado a la freccia mi dice a sinistra cioè questa è meno infinito punto virgola meno un mezzo chiusa quadra queste conseguenze sono le stesse che abbiamo visto per le nostre equazioni quindi posso trasportare il termine cambiando segno che è quello che ormai facciamo abitualmente poi se entrambi i membri di una disequazione sono polinomi e uno stesso termine figura in entrambi i membri questo può essere eliminato la regola di cancellazione e poi a questo punto la regola di semplificazione per un fattore comune però qua lo specifica positivo perché se fosse negativo cambierei il verso infatti poi è costretto a presentarmi un'altra regola di semplificazione si distingue in due quindi perché quando vado a dividere per il meno 5 cambio il verso vedete che ve lo mette sempre qua in evidenza allora fate attenzione cercate di farlo diventare una cosa scontata che fate abitualmente perché perché questo è un errore che si continua a commettere anche in quinta liceo quindi è estremamente importante che voi facciate mente locale su questa cosa altrimenti siete un po' a piedi andando avanti regola di eliminazione dei denominatori funziona esattamente come prima stiamo parlando di una disequazione intera regola di cambiamento del segno ecco qua posso cambiare tutti i segni ma devo cambiare verso e infine posso scambiare fra di loro i due membri di una disequazione ma devo cambiare il verso cioè quando io leggo praticamente se la leggo al contrario x meno 2 maggiore di 7 al contrario diventa 7 minore di x meno 2 qua non posso vedere tranquillamente primo e secondo membro come se fossero la stessa cosa ok e quindi a questo punto possiamo semplicemente giocare nel risolvere le nostre disequazioni ok volgo i calcoli normalmente non mi preoccupo del fatto che qua c'è un maggiore vado a cercare tutti i termini con la x e li porto a primo membro e tutti quelli che invece non hanno la x li porto di là faccio i calcoli questo diventa 10x e qua ho 8,2,10 12,3,15 25 non ho nessun problema posso tranquillamente dividere per il coefficiente della x che tanto è positivo non c'è nessun tranello e ho finito a questo punto retta 5 mezzi che ha un bel pallino vuoto va da questa parte quindi la mia soluzione è 5 mezzi più infinito con le parentesi tonde perché sono esclusi entrambi gli estremi ma prof dimmi in che senso sono esclusi entrambi gli estremi beh perché 5 mezzi è escluso perché è maggiore di indici maggiore non maggiore uguale e il più infinito è sempre escluso non è magari corretto dirlo come estremo però in questa rappresentazione diventa un estremo praticamente ok quindi prof non ho capito se dobbiamo sempre scrivere tutte e tre le soluzioni sì in questa fase iniziale sì assolutamente sì beh io qua per prima cosa toglierei il denominatore quindi fra 15 20 6 e 10 il minimo comune multiplo è 60 se volete lo scrivete io in realtà vado più per la strategia veloce 60 diviso 15 fa 4 60 diviso 20 fa 3 60 diviso 6 fa 10 60 diviso 10 fa 6 e 60 diviso 1 fa 60 per 3 180 quindi abbiamo questo ce lo togliamo subito la regola di cancellazione per il resto abbiamo meno 45x allora 12 18 fa 30 30 più 40 fa 70 più 20 fa 90 90 meno 180 fa meno 90 fate bene attenzione qua divido per un numero che è negativo e quindi al passaggio dopo io qua semplifico così ma al passaggio dopo scriverò x maggiore di 2 mi raccomando non cambiate il segno qua il segno va cambiato in questo passaggio quindi resta x maggiore di 2 lo rappresento qua ci metto il 2 e quindi diventa la soluzione da 2 a più infinito prof quindi se un numero viene diviso per un numero pari il segno non cambia se viene diviso per un numero dispari cambia è il pari e il dispari che fa la differenza no forse per pari intendevi positivo e per dispari intendevi negativo ok va bene allora sì allora va bene grazie grazie grazie